Ciao a tutti ragazzi, sono Eliane e questa è Rotazione Settimanale, rubrica dove ogni settimana vi mostro gli oggetti disponibili dai venditori della zona nera e della base operativa e dove provo a darvi qualche piccolo consiglio per gli acquisti. Alcuni oggetti messi in vendita restano, altri invece cambiano. Bene, questa settimana posso dirvi che c'è roba molto, ma molto interessante, ma andiamo con ordine. Cominciamo dalla base operativa, il solito historian ma con un più 168% di danni copo alla testa, quindi niente male davvero. Preparato è un talento molto interessante, violento pure, ma necessita di molte parti elettroniche per essere attivato. Nocivo, utile a disturbare i nemici, se non avete neanche un M1A allora vi consiglio di acquistarlo, altrimenti potreste pensare di passare. Vector 45 ACP tattico, ottima probabilità colpo critico, caricatore scarso come tutti i Vector, abile, in realtà funziona con le uccisioni con colpi alla testa e non tramite il semplice colpire la testa. Tuttavia tanta elettronica richiesta, quindi un po' difficile da usare. Esperto è interessante, ma anche qui requisiti un po' complessi da soddisfare, a meno che non snobbiate vigore, cosa un po' pericolosa da fare visto il metagame attuale. Crudele è un talento medio, c'è di meglio. In definitiva non facciamoci abbagliare, come arma base è molto buona, ma i suoi talenti sono poco pratici, non ne vale la pena secondo me. E sarebbe molto interessante l'M1911 tattica per il talento talentoso che aumenta potenza abilità dell'8,5% per 13,5 secondi quando si uccide un bersaglio. Peccato, richieda veramente tante parti elettroniche. Questo invece è secondo me uno dei pezzi più interessanti. Questa maschera è rollata molto, ma molto bene. Corazza non massima, e va bene, ma il talento riabilitazione non è affatto malvagio. È già impostata su vigore, ha uno slot e aumenta pure la potenza abilità di ben 4417. Per chi cerca una build da tank tattico ma non ha i pezzi del set giusti, credo che la build tank tattico sia la migliore del gioco in questo momento, ovvero basato su robustezza e potenza abilità, può davvero prendere in considerazione questo pezzo. Lo zaino non è neanche malvagio, è rollato su vigore, è uno slot ma ha un talento non proprio eccezionale. Tuttavia, una ricalibrazione su quell'11% guadagno risorse e abilità speciali, magari cercando corazza, potrebbe giovare un pochettino. Sempre disponibili poi i vari progetti dei set, naturalmente, ma dai, andiamo in zona nera adesso, partiamo dalla zona 2. Abbiamo una maschera dei reparti speciali con un talento interessante, rollata bene, ma diciamoci la verità, se siete grado 80 a zona nera non andrete mai e poi mai a guardare con interesse dei pezzi di alta gamma, quindi secondo me non vale neanche la pena considerarli. Stessa cosa per lo zaino d'operatore, i livelli 80 più in zona nera cercano i set più che gli alta gamma intermedi, questi potrebbero andare bene per chi non ha dei pezzi set decenti. Abbiamo poi i progetti per fondine, zaini e ginocchiere misti, armi da fuoco, vigore elettronica, dai, passiamo alla zona 3, quella sicuramente più interessante, anzi, probabilmente la migliore di sempre. M1A classico, stesso archetipo dell'Historian, con un buon 165% danni alla testa, ricarica più veloce e ripristino buono, se non fosse per le parti elettroniche richieste, e un prezioso sostentamento che vi regala il 6% di salute ad ogni uccisione. Non è malvagio, sebbene l'Historian faccia più danni. RPK74 classica, mitragliatrice veramente ottima, che ha capace, non male come talento, rapido, sempre prezioso per le mitragliatrici, è brutale. Poi se considerate l'ulteriore 30% circa di danni in più controversali scoperti, un bonus che ogni mitragliatrice dovrebbe avere dalla 1.3 in poi, capite bene che questo modello, così come è fatto, tanto malvagio non è. AUG A3 para XS, ottimo archetipo di base, buonissimi, 25,5% di probabilità di critico, che dovrebbe sparire dalla 1.3, perché se dovesse essere confermato, avremo un incremento dei danni prodotti dai critici e non una probabilità di critico, per tutti i mitra. Talenti bloccati a causa delle richieste alte in parti elettroniche, l'unico sbloccato è previdente, che non è proprio il massimo. No, non spenderei i miei soldi per questo. Piuttosto li spenderei, tralasciando di solito Valkyrie sempre in vendita, per questi due progetti, o meglio, per il progetto M1A primondata, amici miei. Credo il miglior fucile di precisione del gioco. Abbiamo anche il progetto dell'AUG A3P tattico, insomma, l'episodio di oggi potevo farlo semplicemente dicendovi compratevi questi due, amen, e finirla qui. Non penso di dover aggiungere altro. Passiamo alla zona 4, mod armi da fuoco prototipo opinabile. Questa mod vigore avanzata, in realtà, per i livelli non alti, è ottima, perché 115 vigore con 1206 potenza abilità, è in pratica la mod vigore prototipo per eccellenza per chi cerca una build tank tattico. Abbiamo, infine, i progetti della mod elettronica e armi da fuoco di livello 32. Terminiamo con la zona 5, visto che la 6 vende sempre due progetti ultimo rimedio e pezzi ultimo rimedio nomade, ma a 191, mirino a punto rosso pro marrone, non è malvagio con i danni colpo alla testa maggiorati, è una gittata aumentata da 20%, sebbene sia di livello 31. Abbiamo il progetto del silenziatore Osprey, che non credo di potervi consigliare, e uno del caricatore steso, che non vedete perché avevo già acquistato a suo tempo. Bene, amici miei, direi che è tutto, però prima di lasciarci, volevo darvi un piccolo consiglio, ovvero cominciamo a risparmiare un pochettino in vista dell'uscita dell'espansione New York Underground, o comunque non ci sveniamo per cercare la build perfetta adesso, visto che tra dieci giorni arriverà l'aggiornamento 1.3, che alzerà il livello di tutti, con o senza espansione, e arriveranno sette sino a 268 e armi sino a 229. I progetti M1A e AUG sono i veri e unici pezzi che consiglio di acquistare, più l'M1A onestamente. Per il resto, se non siamo veramente, ma veramente sicuri, teniamoceli i soldi. Io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Elie vi saluta, love and peace, agenti!